Ciao, oggi sono qui con Cristina Cuman, dentista e dentosofa, a parlarvi di... di cosa ci parli? Buongiorno, mi piacerebbe oggi parlarvi di un'alternativa a quelle che sono le estrazioni in ambito ortodontico. Senza scendere nel dettaglio di caso specifico, che deve essere valutato ovviamente singolarmente, molto spesso arrivano dei pazienti che mi dicono, ma mi hanno consigliato di togliere dei denti per mettere l'apparecchio. Quello che mi piacerebbe farvi sapere oggi è che c'è un'alternativa. Volendo e impegnandosi con dei dispositivi alternativi, come può essere l'equilibratore, che è il mio apparecchio preferito. Che cos'è l'equilibratore? Il mio apparecchio preferito in ortodonzia è un equilibratore dentoposturale, che va ad espandere le arcate in maniera molto dolce e a creare lo spazio per tutti i denti che abbiamo. Di conseguenza mi piacerebbe appunto farvi conoscere questa alternativa, che si avvale di dispositivo ortodontico come l'equilibratore associato a delle manipolazioni, a delle sedute di riflessologia, fisioterapia, osteopatia, che vanno a rilasciare le tensioni della colonna vertebrale, come anche tensioni dei muscoli cervicali o dei muscoli masticatori. Quindi anche in questo ambito la collaborazione interdisciplinare è fondamentale per permettere un risultato efficace, stabile nel tempo e che soprattutto sia veramente di giovamento per i nostri pazienti. Benissimo, se avete qualcosa in merito scrivetecelo qui sotto e noi vi risponderemo. Ciao!